Esci? E dove vai? A quella festa. E ti accompagna qualcuno? Sì, Stefania. Ah, Stefania. Chi è quello che ti chiama tutti i giorni? Allora, farei tardi. Non lo so. Magari ti chiami. Magari. Avete mai pensato alla tranquillità che vi dà il telefonino? E a papà, che dici? Sei con Stefania, no? Nuove tariffe famiglia. Informatevi al 187. Grazie.